Ho visto, pure io l'ho visto prima, cioè praticamente tu fai così, tu la lanci e poi ti sposti d'altra parte, quando la lanci, allora prima cosa non ti spori con AD, ma usa queste cose, vedi? Q e D, quindi sponi di prima affacciandoci, semplicemente lanci e poi ritorni a posto, no? Non è che ti metti qua, sennò ti flashi tu, i nemici, è tutto. Ci sono con te, sono con te, cazzo. Bella. E' ancora vivo, carica rapido. Vai, ti cambio. Sto pronto, cazzo? E' a terra, vai a sinistra, sì, ci sono. Con me, Igole. Ciao a tutti e benvenuti sul canale con questo nuovo video, siamo su Radio Ornot con un episodio che mi ha colpito particolarmente, perché abbiamo iniziato ad addestrare, se così possiamo dire, Igole, Filippo, la nuova recluta che è entrata in Brigata Corvineri, proprio vedendo i miei video, proprio vedendo i video che ho fatto recentemente su Radio Ornot e su altri titoli come Arma 3 e Squad, ed ha deciso di far domanda in Brigata Corvineri. Abbiamo deciso dunque di organizzare una sessione pomeridiana per iniziare un po' ad addestrare, sia psicologicamente, alla pressione che ti dà titoli come Radio Ornot, che sono tantissimi che riescono a trasmetterti adrenalina, immersività, e anche un po' per andare a spiegare quelle che sono le procedure del CQB su Radio Ornot, come le approcciamo noi Brigata Corvineri, ossia il più possibile andare a simulare quello che fanno gli operatori nella vita reale. Quello che facciamo noi è andare a lavorare sulla pressione, andare a lavorare sull'abitudine del giocatore a vivere queste esperienze su Radio Ornot, ma anche su Arma 3, su tutti quei giochi che ti permettono di simulare uno scenario che vivono gli operatori di FBI, operatori di primo livello, ovviamente stiamo sempre parlando di quello che è il gioco in sé, però se uno si cerca di medesimare nella scena, nell'operatore, si possono vivere delle emozioni, questo ve lo garantisco. Dunque, adesso vi lascio a momenti salienti fatti oggi pomeriggio insieme ad Eagle e Gaz, altro istruttore della Brigata Corvineri, state attenti, fate attenzione ai movimenti che si fanno e soprattutto in quali circostanze si fanno. Cercate di memorizzare questi movimenti che sono incredibili e ci vuole tanto 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 sacrificio e soprattutto passione per andare a simulare queste tecniche che svolgono gli operatori nella vita reale. Io vi ringrazio, vi do una buona visione, mi raccomando passate dalla mia pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo che i reclutamenti presso la Brigata Corvineri per diventare operatori sono aperti, c'è il link in descrizione che vi porta al nostro server Discord, fate domande, leggete i requisiti. Io vi aspetto e spero di fare dei game insieme a voi. Vi ringrazio, vi saluto ed un abbraccio dal vostro Blake. Ok. Ti copro, ragazzi. Vai. A terra. Vado alle scade. Copio. Ci pidi a sinistra. Carrelle. Libero. Contatto a terra da me. Capi, vengo doppio. Conte. Prendo il civile. Vado a terra. Stai tranquillo, non muovere. Entrazione per parlare. Abbiamo una cosa che si tratta. Parlare con entrazione. Roger, i traileri in basso. Clear. Libero da me. Apertura. Ti raggiungo. Con te. Ok. Eagle, fai rapporto su quello dietro. Ok. Eagle, ci muoviamo. Ready. Vado a destra. Ok, sinistra clear. Vai Eagle, accodati a lui. L'oggetto con me. L'ho aspettato. Vai Eagle, vai tu. Ho un incorriloio a T. Ok, arrivo. Vai Eagle, prendilo. Prendilo Eagle. Prendi il civile. Mi ha sicurezza. Ok, siamo in set. Raffi. Ok, flashbang. Ok, preparo. Flash ready. Vai. Flash out. Vado a destra. Copio. Vado a destra, ora! Prendi il civile. Prendi il tuo cuore. Libero. Controllo in fondo con Blake. Tocco spalla. C'è una porta a destra. Copy. Eagle con me. Switch. Sinistra libero. Vai, entra. Libero. Dimmi quando sei pronto a uscire. Esco. Ready. Ok. Conta Blake. Niente, non si accende. Sì, sì, la vedo, la vedo, cazzo. Passiamo alla sinistra. Vai, passo. Cerchiamo un accesso tra i container, senza andare oltre il camion. Quando vuoi. Vedo un contatto, c'ha ragione Eagle. C'è un contatto sulla porta, l'ho visto, è armato. Vediamo se si arrende. Eh, già mi spara. Lascio spazio. Vai. C'è l'ho. È scappato dentro. A sinistra, vai, quando vuoi, quando vuoi. Devo ricaricare. Ci sono, ci sono. Bella, cazzo. Ci sono con te, sono con te, cazzo. Bella. È ancora vivo? Carica rapida. Vai, ti cambio. Sto pronto, cazzo. È a terra, vai a sinistra, sì. Ci sono. Con me, Eagle. Moviamo insieme, vai, vai. Ok, Eagle, tieni l'occhio alla parte destra del tir. Ok. Blake, con te. Vai. Vai. Vai qua. Vieni, Eagle, la donata. Arrivo. Ma è passata che mi unisco a voi. Vieni, Blake, accordati a me. Entriamo sulla parte sinistra del warehouse. Con te, cazzo. Mi muovo. Vai sulla sinistra. Ti coppio lì a destra. Container, container. Stand by, stand by. Copy. Andiamo sulla destra del furgoncino. Muovetevi insieme a me. Ho bisogno di più... Vai, ci sono... Ok. Immobilizza questo, Eagle. Ok. Ok. Nel veicolo. Copy. Mantieni, cazzo. È a terra. Ok. Vai. Sei in sicurezza, cazzo. Ti chiudo la porta e puoi andare. Eagle e qui entriamo. Sì, sì. Stand by, Eagle. Stand by, stand by. Levati, levati, levati. Ok. Eagle, raddoppia su di me. Raddoppia su di me. Dall'altra parte. Guarda l'incrocio in fondo. Croce a sinistra. Bravo. Bravo. No, no, quello in fondo a te. Questo qui, guarda. Guarda quello, bravo. Ce l'è, ce l'è. Bravissimo. Apri. Entro io, eh. Dai, dai. Entro. Clear, libero. Copy. Abbiamo un'altra porta. Vai, usciamo da lì. La porta è sbloccata. Aspetta ad aprire. Sì, sì, sì. Ok, sembra libero, entro. Ok, vabbè. Lì, clear. Eagle, no? Esco. Porta da mia. Ok, fermo. Controllo controllo. Guarda dietro, Eagle. Dividiamoci sulla porta. Buono. Vai, tengo la porta. Io ero a destra, andiamo, andiamo. Ok, pensate alle altre due. Io vi copro le spalle, perché qua c'è un passaggio. Eagle, tu apri a sinistra e vado a destra. Dobbiamo aprire tutte e due le porte e liberare entrambi. Quindi tu vai di qua. Vai, pronto, vai. Ready. Ready. Police, non muovi. Ready. C'è un'altra stanza all'interno. Vai, vai, tranquillo, sono io, sono io. Ottimo. Perfetto. Al resto, andiamo da cazzo. Eagle, Eagle. Ready. Oh boy. Cazzo in wage. Bloccato, possiamo salire. In set. Andiamo direttamente a sinistra qua. Facciamo una fila. Eagle, segui Blake. Ci sei, Eagle? Sì, con te. Vai, giro l'angolo. Porta, tienimi in crocio, tienimi in crocio la porta a sinistra. In crocio, bravissimo. Al mio 3, quando faccio l'alzo dell'arma, io vado a sinistra e tu vai a destra. Sei pronto? Ok. Vai. Ok, qua è clean. Bravo, pure da me, ottimo. Bravo, ottimo, bravo. Flash out. Perfetta. Libero. Bravo. Torno a posto, bravissimo. Si arrenda. Supporta, supporta con me. Eagle? Ma Eagle? Che sono? Vai a sinistra di tua tenda. Libero. Bravissimo. Flash out. Entri prima tu, eh. Destra. Bravo, prendi una direzione, bravissimo. Blu, blu. C'è una porta qua. Ok. Con voi. Ce la guidiamo alle spalle, ci metto un wage. Dentro sinistra. Vai. Scale, scale, scale. Coppia. C'è un tunnel, eh? C'è un tunnel, eh? Blocco l'uscita. Ah, è la torcia, perfetto. Bella, ma grande, cazzo a memoria, porca troia, dai. Supporto? È il mio fianco adesso. 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 È il mio fianco adesso.